Le persone con maggior grasso viscerale hanno più probabilità di finire in terapia intensiva delle altre. Questo è il risultato dello studio condotto dall'Università di Roma assieme all'ospedale Bufalini di Cesena sui pazienti ricoverati negli ultimi mesi perché positivi al Covid-19. La ricerca ha coinvolto 400 pazienti del nosocomio Cesenate ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Diabetes Care in quanto per la prima volta è stata scoperta questa delicata correlazione tra la pericolosità del virus e lo stato fisico delle persone. I soggetti affetti da Covid-19 che richiedono trattamento in terapia intensiva presentano un aumento del grasso viscerale rispetto ai soggetti che invece non richiedono trattamento in terapia intensiva. In pratica è la pancia a fare la differenza. Se obesità, sovrappeso e diabete sono sempre considerati come elementi a rischio, questa volta più di tutto è il grasso presente nell'addome a creare problemi. Colpa delle chitochine, molecole proteiche presenti in gran numero in questo tipo di soggetti e che potrebbero facilitare l'aggravarsi della malattia. Questo dato è indipendente dall'indice di massa corporea, cioè indipendente dal peso, indipendente dal grado di obesità. Quindi a parità di peso, a parità di indice di massa corporea, a parità di grado di obesità, chi ha un aumento del grasso viscerale presenta un rischio maggiore di incorrere in un ricovero in terapia intensiva. Grazie.